Con i fischi del pubblico del tardino. I dirigenti del Parma, anziché prendersela con i propri tifosi, pretendendo un consenso assoluto di stampo nordcoreano, dovrebbero cercare di capire bene che cosa frulla nella testa e nelle gambe dei propri giocatori, i quali evidentemente hanno preso alla lettera l'annuncio leonardiano di qualche tempo fa. Vogliamo stupire, aveva tuonato la D gialloblu. Effetti stupefacenti certo, in negativo però. E così ieri sera la squadra ha buttato via un'altra vittoria, una vittoria che era già in tasca, con un Catania che si era presentato al tardino molto arrendevole. Inevitabile il rammarico e anche il disorientamento nelle parole dei protagonisti in campo. Comunque la gente giustamente paga il biglietto e quando è contenta fa gli applausi, poi quando le cose magari per loro non vanno bene è giusto che fischia. Niente da dire, siamo i primi noi scontenti perché volevamo fare veramente un Natale sereno. Così dobbiamo ripartire e subito, quando torneremo, dobbiamo lavorare per fare una grande partita, lotto. Ora il Parma va in vacanza, ritrovo fissato il 28 dicembre, prossimo impegno ufficiale sabato 7 gennaio a Milano, contro l'Inter alle 20.45. Ieri sera in sala stampa il presidente Tommaso Girardi ha evitato di presentarsi per formulare i tradizionali auguri di Natale. E' arrabbiato, negli ultimi giorni ha anche agitato il fantasma dell'addio a Parma. Sarebbe un peccato. Tenga però presente il patrono che in altre piazze, a differenza della nostra, quando le cose non vanno bene, i presidenti vanno in giro sotto scorta.